Mentre l'indicativo futuro semplice di ferro, volo, nolo e malo segue le regole di quello dei verbi della terza coniugazione, l'indicativo futuro del verbo eo è simile ai verbi di prima e seconda coniugazione. Per dire io andrò, tu andrai e così via, i romani utilizzavano il tema i, a cui univano le terminazioni bo, bis, bit, bimus, bitis, bunt. Queste sono formate regolarmente dal suffisso temporale B seguito dalle desinenze.